Entrati in azione la trattativa per la Pernigotti di Novi Ligure. Ieri pomeriggio, nel corso dell'Assemblea, fra sindacati e lavoratori, che si è svolta 24 ore dopo il tavolo ministeriale, al Mise, è stato comunicato che i dipendenti avrebbero ancora due anni di cassa integrazione e altri due di naspi, cioè la disoccupazione. Quattro anni nel corso dei quali, che è vicino alla pensione, potrebbe comunque percepire uno stipendio, così come trovare un'altra occupazione che rimarrà fuori dalle trattative. La Vitors, l'azienda di Cremona, intenzionata ad acquisire un rabo d'azienda, a Roma ha infatti fatto sapere che l'operazione prevede l'assunzione di soli 25 lavoratori dei 56 tuttora in forza e alla Pernigotti. E a questo proposito i sindacati sono compatti nel voler portare avanti la trattativa senza lasciare per strada nessuno, garantendo così l'occupazione a tutti. Un altro aspetto dell'operazione, che potrebbe salvare uno dei marchi più antichi del nostro paese, riguarda la nuova struttura che dovrebbe sorgere al posto dello storico stabilimento novese di Viale della Rimembranza, ritenuto ormai troppo vecchio e gravato da costi pesantemente onerosi. A questo proposito il sindaco della città si è subito detto disponibile a valutare qualsiasi soluzione a livello urbanistico, identificando un'area che possa essere idonea alla nuova costruzione. A fine maggio dovrebbe essere convocata una quarta riunione al Ministero per lo Sviluppo Economico e in quella sede potrebbe essere valutata anche l'idea dell'assessore regionale al lavoro, la quale ha parlato di un piano industriale allargato che possa rilanciare il distretto dolciario novese con l'inserimento di tutti i lavoratori della Pernigotti.